che numero è? 48 numero 48 noi canteremo gloria a te Padre che dai la vita Dio d'immensa carità Trinità infinita tutto il creato vive in te segno della tua gloria tutta la storia ti darà onore e vittoria nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi io non ho mai desiderato fare questa messa all'esterno di Padre Pio è una proposta accorata che mi è stata fatta ed è una cosa bella, è bella quando il popolo si muove, si fa promotore di un'iniziativa anche devozionale ecco, perché diventi un'occasione per accogliere il Vangelo, per cambiare vita, per seguire più da vicino Gesù Cristo oggi, sapete, è la festa di San Pietro a Piotrcina e questa celebrazione qui all'esterno è stata voluta in origine qualche anno fa dalla famiglia Caparo adesso c'è chi continua questa iniziativa con l'appoggio anche dell'amministrazione che ringraziamo e ringraziamo tutti i fedeli, i devoti di San Pio che siete qui stasera a pregare insieme a me e allora è con questo desiderio di ascoltare il Vangelo e di guardare l'esempio di Padre Pio che vogliamo pregare stasera pregare per incamminarci più decisamente per il nostro sentiero di santità chiediamo perdono per ogni peccato confesso a Dio omnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, i pensieri, le parole, le opere e le unzioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata sempre Regine Maria grazie a Dio omnipotente e a voi fratelli di pregare per me, Signore Dio nostro Dio omnipotente abbia misericordia di noi perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna Signore pietà Signore pietà Signore pietà Cristo pietà Signore pietà Signore pietà Preghiamo Dio omnipotente ed eterno con grazia singolare hai concesso al sacerdote Sant'Io da Pietalcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero ha rinnovato le meraviglie della tua misericordia concedi a noi per sua intercessione che uniti costantemente alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli ci accomodiamo dal libro di Estra io Estra all'offerta della sera mi alzai dal mio stato di prostrazione e con il vestito e il mandello laceri caddi in ginucchio e stessi le mani al Signore mio Dio e dissi mio Dio sono confuso ho vergogna di alzare la faccia verso di te mio Dio poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa la nostra colpa è grande fino al cielo dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli e per le nostre colpe noi i nostri re i nostri sacerdoti siamo stati messi in poteri di re stranieri in preda alla spada alla prigionia alla rapina al disordine come avviene oggi ma ora per un po' di tempo il Signore nostro Dio ci ha fatto una grazia di lasciarci un resto e darci un assidio nel suo luogo santo e così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri occhi e ci ha dato un po' di sonlievo nella nostra schiavitù infatti noi siamo schiavi ma della nostra schiavitù il nostro Dio non ci ha abbandonati ci ha resi graditi ai re di Persia per conservarci la vita ed eriggere il tempio del nostro Dio e restaurare le sue rovine e darci un ripare in Giuda e a Gerusalemme parola di Dio vediamo grazie a Dio benedetto Dio che vive in Eterno benedetto Dio che vive in Eterno benedetto Dio che vive in Eterno benedetto il suo regno egli castiga e ha compassione benedetto Dio che vive in Eterno fa scendere agli imperi nelle profondità della terra e fa riservire dalla grande perdizione nessuno spulcia alla sua mano benedetto Dio che vive in Eterno benedetto Dio che vive in Eterno date gloria a Lui davanti a ogni vivente poiché è Lui il nostro Signore il nostro Dio Lui il nostro Padre Dio per tutti i secoli benedetto Dio benedetto Dio benedetto Dio benedetto Dio benedetto Dio che vive in Eterno benedetto Dio alleluia alleluia il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca gloria a Deo Signore in quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi disse loro non prendete nulla per il viaggio né bastone né sacca né pane né denaro e non portatevi due tuniche in qualunque casa entriate rimanete là e di là poi ripartite quanto a coloro che non vi accolgono uscite dalle loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni parola del Signore gloria a te o Cristo Gesù chiama a sé i dodici chiama a sé i dodici i dodici apostoli e gli dà un potere straordinario cioè gli dà il potere di fare che cosa? le cose che facevano oggi quindi che cosa significa questo? che la missione di Cristo chi la deve continuare oggi? se lui ha dato l'incarico agli apostoli diciamo i successori degli apostoli chi sono? sono i vesco eh? il loro è rappresentato dalla Chiesa quindi ciò che ha fatto Gesù Cristo deve continuare dalla Chiesa Gesù oggi è presente nella sua Chiesa e dice alla Chiesa di continuare la sua missione e qual è la sua missione? di andare incontro ai bisognosi di annunciare il Vangelo di salvezza questa buona novella questa buona notizia che la salvezza la misericordia la vita eterna è per tutti questo è il messaggio di Cristo questo è il messaggio della Chiesa questo è stato il messaggio degli apostoli questo è il messaggio che ci testimoniano tanti religiosi queste saranno la testimonianza di Padre Pio una vita consacrata al Vangelo una vita consacrata al Signore è interessante vedere come qua Gesù dice questa lettura non l'ho scelta io è proprio quella di oggi che non c'entra con Padre Pio però intanto dice li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi manca a farla apposta e vedete veramente con la sua testimonianza della sua vita con la sua fedeltà Padre Pio è stato la testimonianza del Vangelo una testimonianza del regno e poi grazie alla sua intercessione quante guarigioni quanti prodigi si sono realizzati questo ci fa capire che se noi siamo veramente uomini di Dio uomini legati al Signore uomini che stanno in sintonia è una amicizia stretta con il Signore il Signore grazie a noi può operare grandi prodigi grandi miracoli come ha fatto con Padre Pio Padre Pio è una persona l'acqua è un rumore come a me però intanto vedete quanti prodigi quanta santità intorno a lui ma questo non è solo per Padre Pio questo può essere anche per Fraluigi per ognuno che è qui in piazza stasera tutti 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 siamo chiamati alla santità e poi dice agli apostoli non prendete nulla per il viaggio né bastone né sacca né pano né denaro perché niente perché quando si annuncia il Vangelo bisogna essere liberi San Francesco voleva che i fatti fossero poveri senza niente per essere liberi di annunciare il Vangelo dovunque andassero voi pensate che belli i primi tempi i frati andavano a due a due senza la preoccupazione dei convenghi dei bulletti protetti casicassare a manutenzione a currenza a fundana cioè si preoccupavano solo del Vangelo Francesco ha avuto una grande intuizione io credo che che dovremmo riscoprire questa radicalità di Francesco ma questo valeva per gli apostoli valeva per Francesco ma anche noi oggi dovremmo tendere alla sobrietà cioè evitare gli eccessi alla semplicità in modo da togliere ciò che più è superfluo ciò che non è necessario e concentrarsi su ciò che davvero conta su ciò che davvero è importante e cos'è che conta e che è importante? Il Vangelo fare il bene vivere l'amore testimoniare Cristo questo questo è ciò che alla fine resta e poi dice che in qualunque questa è la finessa in qualunque casa entriate rimanete là e di là poi ripartite che cosa vuol dire qua? che quando entrate in un paese e annunciate il Vangelo entrate in una casa vi accolgono va bene là non c'è bisogno di dire la casa fianco è più meglio forse adesso mangi più meglio no entri in una parte basta che ti hanno accolto va bene e se non ti accolgono scuota la polvere dai caldari cioè dici nemmeno la polvere in quel paese con ti accolto deve restare attaccato ai due piedi a testimonianza per loro affinché si contentano che cosa ci dice questo? che vedete nemmeno Gesù è stato accolto da tutti nemmeno gli apostoli nemmeno San Francesco nemmeno Padre Pio cioè chi ha resistito allora magari poi il Signore ha provato altre strade per farle convertire queste persone però non ci dobbiamo meravigliare se non tutti ci accolgono è stato sempre così però abbiamo il dover di annunciare sempre il Vangelo con coraggio e con generosità e anche con l'insistenza poi chi ci accoglie ci accoglie noi seminiamo poi il Signore provvederà per il ci accolto questo è fondamentale e pensando oggi a Padre Pio il pensiero ha anche certamente alla bellezza di seguire Gesù di seguire il Vangelo ma anche alla difficoltà di seguirlo voi pensate che Padre Pio ha contemplato molto la sofferenza la croce di Gesù e talmente ha offerto la sua vita per Gesù che come già era successo per San Francesco ha avuto le stimmate il segno della croce e la sofferenza di Cristo delle piaghe le cinque piaghe delle stimmate di